Comune di Fighine e Cisavaldarno, Fighine e Valdarno in questo caso la piazza, la splendida piazza vicino alle nostre spalle. Siamo con Alessandro Beccastrini di Fim Cisle, il tema sempre Becchert, una importante riunione qui svoltasi alla Circo Lofanine dei Fighini. Beccastrini, qual è l'esito di questa riunione? L'esito intanto è che c'è stata una grande partecipazione dei nostri iscritti e lavoratori. Avevamo una sala strapiena e non c'era uno all'interno della sala e non fosse un lavoratore. E quindi questo per noi è molto importante e significativo. L'esito è quello che i lavoratori, gli iscritti, ci hanno dato un mandato a proseguire una trattativa senza nessuna strumentalizzazione politica. Perché abbiamo la sensazione che qualcuno voglia trascinare questa avvertenza esattamente dove vorrebbero alcune forze politiche o magari anche tutte le forze politiche. Siamo vicini all'elezione e questo paese, lo sappiamo, quando si avvicina a questi particolari momenti, fibrilla un po'. Quindi i lavoratori ci hanno dato un mandato a continuare la trattativa che sia solo e soltanto sindacale. Noi quindi aspetteremo il 28 per le comunicazioni al Ministero del Sviluppo Economico sulla partita della reindustrializzazione. Nel frattempo la FIM farà tutti i passi per chiarire invece dove è fermo l'iter burocratio dell'approvazione di decreto sulla cassa. La riunione si è appena conclusa, ha una grossa partecipazione come ricordava Beccastrini. Quali sono le vostre aspettative a questo punto? Le aspettative sono riposte molto sull'incontro del 28 al Ministero del Sviluppo Economico per capire la reindustrializzazione a che punto è. L'importante sarebbe avere a breve un compratore che poi inizi tutto l'iter per iniziare a produrre. L'aspettativa maggiore è questa. Il 28 al Ministero del Sviluppo Economico è fondamentale e importante per capire lo stato dell'arte della reindustrializzazione a figline.